ma anche a lunedì sera posso stare tranquillo fossi stato a casa l'avrei anche vista la parità magari il video ve lo facevo anche a me c'era un ristorante tranquillo stavo ormai comunque tornando a casa perché poi a lunedì sera non è che uno sta fino a tardi tac telefono instagram whatsapp youtube messenger e twitter e chi più ne ha più ne metta ragazzi veramente ho detto ma è successo ho detto le cose su un 2 o sono finito su sport media set e ho assegnato petania ha segnato petania ragazzi forse era più probabile la prima però ho detto vabbè ha fatto un gol 22 gol petani ragazzi quando mai petania ha fatto due gol quando mai forse quando aveva tre anni al campetto forse forse non lo so ragazzi è bello che dal mio meme avevo scritto cos'è che avevo scritto avevo scritto quando il tuo mestiere è fare gol ma ti presenti al lavoro una volta all'anno una cosa così avevo scritto e quindi dai vuol dire che forse fa solo questi due gol e poi non ne fa più speriamo ragazzi che sia di buon auspicio per chi non sa cosa è successo con petania vi lascio i due video in altra testa nelle schede ma penso che lo sappiate tutti e non ho visto il gol non ho visto la partita ragazzi è solo un commentino così goliardico su quello che è accaduto e ho sentito dire che avete scritto sui segmentanti mi avete scritto che ha anche esultato come un matto a sti gol quindi uno mi ha detto che uomo di merda addirittura oltre a quello che ha fatto a me ha esultato anche il gol contro la sua ex che poi vabbè quello dipende magari anche il modo in cui esulti però io non so come si è lasciato con l'Atalanta poi mi pare che sia in prestito quindi in teoria ancora dall'Atalanta quindi sta esultando però lì per carità fai il tuo lavoro fai gol dato che lo fai una volta all'anno appunto e lascia l'esultare sto poverino dai fai due gol all'anno già che ne ha fatto una doppietta mamma mia ragazzi speriamo che non ne fa tre perché veramente vado a casa chiudiamo baracca e burattini e ciaone e però staccandoci un altro ma discorso petagna è la spalla ragazzi che mi pare che salga 9 punti se non vado errato sta andando molto bene e secondo me è sicuramente più forte di Bologna di Frosinone forse anche delle Empoli quindi secondo me si può salvare non dico tranquillamente ma ha buone possibilità di salvarsi Atalanta che dopo l'eliminazione in Europa è in crisi nera e secondo me quest'anno fare un campionato un pochino al di sotto rispetto agli anni scorsi ma ci sta purtroppo la squadra si è anche un po' indebolita e un'eliminazione così purtroppo ti di conseguenza la stagione poi va male così purtroppo l'ho visto anche sulla mia pelle sulla mia Lazio quando si è eliminata in Champions League e altro da aggiungere ecco poi io vorrei andare a Spallazio a vedere poi proprio Pettagna dal vivo però vediamo se ci vado comunque mi pare che aprile maggio del prossimo anno non è comodissimo per me ci sono trasferte molto più comode adesso c'è Parma Lazio ad ottobre ho sentito mio padre magari ha detto potremmo andarci vediamo e se ci andrò comunque vabbè poi farò il video anche lì signori vabbè video veloci tanto per dire due cagate seguitemi su Instagram e link qui sotto devo salutare Valle03 che me l'ha chiesto oggi ciao ragazzi bella Pettagna mamma e meno male che non ce l'ho contro il Fanta se ce l'avevo contro il Fanta